Grazie mille, grazie, sono un giorno, scusatevi in ritardo, ma sono un giorno qui, viviamo tanto per la città, scontriamo molto e devo dire che oggi stesso, come l'ultima giornata, abbiamo sentito il tema della sicurezza essere il primo tema della testa dei vitali. Credo che questo ci debba far riflettere, sia sulle soluzioni che dobbiamo dare, sia sull'imposizione che dobbiamo dare di questa nostra campagna. A sinistra oggi ci hanno accusato dicendo che mettono sempre la sicurezza in un punto a loro per il giorno, noi non pensiamo alla sicurezza, come una sera che esiste la paura, noi dobbiamo pensare all'immagine di Milano all'estero, però l'immagine di Milano all'estero è una cosa importante, peccato che vorrei che Milano fosse una bella città, non solo per chi espone a Milano, per chi fa grandi eventi a Milano, ma anche per chi ci vive, e quindi credo che il tema che noi stiamo toccando adesso, che il tema della sicurezza è un tema importante che va oltre alla gestione del singolo problema, specifico problema della sicurezza, ma che riguarda una visione strategica diversa della città, non solo generale, adesso vengo al punto e capirete che cosa voglio dire, voglio dire il fatto che...